Musica 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 Il secondo tempo, ora per il mezzo verso Meganaitis, con la sfera sempre Meganaitis, e a servire Malacquari, la conclusione, ma non quello con formigoni, che lo ferma con maestria, ancora vantaggiato, lotta, ecco una palla, vantaggiato, in mezzo, la conclusione, che non inquadra la porta. Un saltatore, attenzione ai blocchi, il pallone però arrestato, uno schema vantaggiato. Ancora Gomez, sombrero, su paghera, eccolo l'argentino, Gomez poi serve, Fasquato, si controlla una sfera sul mancino, eccolo Fasquato, la conclusione, in due tempi è andato sul settore destro, ecco ancora formigoni, che serve Fasquato, con la trama dei furbi, ancora Fasquato, se ne va bene Fasquato, può andare al cross, Fasquato, la metti in mezzo, viene di dismanaccia, arriva Malacquari, eccolo Sainz Masa, ancora la bandierina, il pallone di testa, va, vede, staccare, guarito Gomez, una battuta con Defendi, che va in cambio di gioco, centralmente Marilungo, attenzione, avanza, Marilungo, serve, benissimo, Furlan, cucchietti, in due tempi, è lungo di prima, ancora verso Furlan, svibola la palla Ferrini, eccolo fuori, e qui ci sta il calcio di rigore, contro Cucchietti, parte Torromino, la battuta in gola, ha indovinato l'angolo Cucchietti, contro Cucchietti, parte Torromino, la battuta in gola, ha indovinato l'angolo, Formicoli, in mezzo all'area, Pelecchini di testa, facilissimo per Iannarilli, e finisce così, 1 a 1, la compagnia Marilungo, tutto nella ripresa, al tredicesimo, il gol di Malacquari, servito da Medelaic, con un destro secco, che batte Iannarilli, dal limite dell'area, Poi, il dubbio ha più volte,